Ercolano propone per la campagna hashtag io resto a casa l'iniziativa i lapilli del parco archeologico di Ercolano. Il direttore Francesco Sirano invita tutti a tour virtuali sulla pagina facebook del sito ricordando che sono proprio le città sepolte dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., riemerse dal buio in cui erano sprofondate a ricordare quanto questo territorio sia sopravvissuto ai mani tragedie e catastrofi avendo sempre la forza di ricominciare. E con lo slogan la cultura non si ferma, lavora anche la regione campagna attraverso la società per i beni culturali SCABEC. Sul canale youtube di lezioni di storia festival l'iniziativa della casa editrice la terza con la SCABEC si possono seguire gli incontri di quella rassegna di grande successo. Un'altra iniziativa arriva da Aversa dove l'assessorato alla cultura ha lanciato l'iniziativa Tu resti a casa, ci pensiamo noi, consegnando libri a domicilio, in prestito o in regalo a chi ne farà richiesta. Grazie.